Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video! Oggi siamo in Galleria a Milano, lì dietro c'è il Duomo e adesso stiamo facendo un po' di compere natalizie. Adesso ho tra... non so in verità tra quanto perché non ho l'orologio al momento. Ho un appuntamento alle due qui in Galleria perché devo andare da Louis Vuitton appunto a prendere una roba che vorrei da tanto tempo, che finalmente è arrivato il momento di prenderla. Ci sono i piccioni anche in Galleria per la prima volta. Qui c'è l'albero Swarovski, io sto rovinando le foto a tutti, ops! E niente, stavolta hanno acceso prima l'albero in Duomo e niente, qui c'è gente che fa TikTok e io adoro questa cosa. Adesso sto cercando di non entrare nelle foto di nessuno, però c'è abbastanza gente, soprattutto per il periodo in cui siamo. Comunque adesso siamo arrivati davanti al negozio, ne ho già messo le box natalizie, quindi adesso entriamo. Non faccio clip con la videocamera, magari vi lascio qualche foto. E niente, ci vediamo dopo! Allora, siamo per farvi capire al secondo piano, di solito io vado al terzo e qui c'è appunto l'albero di Swarovski, l'hanno appena acceso. Adesso sto provando un po' di cose. Ho scelto questa, questo mi piace, infatti l'ho messo nella lista. Poi ho provato un paio di gracciali e adesso sto provando due portachlavi. Abbiamo finito, come vi ho detto ho preso la sciarpa, adesso poi i miei torneranno a prendere quello che mi piace, vediamo poi perché vorrei la sorpresa. E nulla, gentilissima la persona che ci ha assistiti. E niente, adesso vediamo se entrare in qualche altro negozio oppure se andare a casa perché sono stanchissimo e poi qui fa un caldo. Siamo riusciti finalmente ad avere il pacco. Quest'anno la box natalizia è fatta così, preferisco quella dell'anno scorso, però fa niente. E nulla, adesso vediamo se girare un altro negozio oppure andare a casa perché siamo stanchi. Allora, non so quanto si possa vedere o sentire perché sto registrando con l'iphone. Comunque ho aspettato dieci minuti per avere la borsa di plastica appunto perché sta piovendo qui in Duomo e altrimenti mi si rovina tutto. Comunque, finalmente sono riuscito a prendere questa sciarpa. Non so se ve l'ho ancora detto, ma sì, ho preso la sciarpa alla fine. E adesso abbiamo lasciato, diciamo, in sospeso un bracciale, un portachiavi e forse un altro bracciale. Comunque, poi tocca ai miei di decidere cosa prendere e cosa no. In teoria dovrei girare tipo due o tre negozi in Monte Napoleone, solo che siamo veramente stanchissimi perché ci abbiamo messo penso due ore in negozio perché ho provato di tutto e quindi niente, penso che adesso torniamo a casa. E niente, sono contentissimo della giornata perché dopo essermi impegnato tre mesi a scuola penso di essermela meritata questa sciarpa. Siamo venuti anche da Massari e qui veniamo ogni anno tipo per Natale. Mia mamma ha preso la solita cioccolata, io invece no. Stavolta sono stato sul tè al limone, la bottiglietta. E niente, ve lo consiglio perché è buonissimo. Comunque, durante i periodi di feste vi fanno il panettone. Non sono sicuro sulla colomba però, oddio c'è un picciolo perché solitamente qui vengo per il panettone eccetera. Comunque il Duomo è lì per darvi questa informazione e niente, è stata veramente la giornata perfetta. Allora ho tirato un attimo giù la mascherina perché comunque sono lontano da tutti e perché sto bevendo appunto. Qua dietro fanno sempre vedere diciamo il piccolo laboratorio dove fanno, non lo so, pasticcini e questi dolci così. E secondo me è una bella idea. Comunque adesso abbiamo deciso che non andiamo in Monte Napoleone e torniamo direttamente a casa. Quindi io poi alla fine darò ai miei delle indicazioni e poi loro decideranno cosa prendere. Comunque niente.